Assessore Silvio Paolucci, lavori sulla A24-A25, replica del PD al decreto del Governo. Intanto è gravissimo quello che hanno fatto con quel decreto, evidentemente immagino non si siano letti quello che c'era scritto. Loro di fatto regionalizzano le nostre autostrade e per investire sulla sicurezza tolgono 200 milioni, anche se per cassa, anche se in anticipazione, e li tolgono solo l'Abruzzo. È come se avvenisse in Italia che un'altra autostrada, io ho fatto l'esempio, la Milano-Venezia fosse a carico della Lombardia e del Veneto, ma non avviene in nessuna parte d'Italia. Le autostrade sono a carico di risorse nazionali e non di risorse assegnate alla nostra regione. Peraltro, quelle risorse avrebbero riguardato diversi interventi in tutti i comuni. A Vasto, per fare un esempio di Vasto, c'erano le risorse sulla depurazione, su Vasto Marina, insomma risorse molto importanti che acconsentrano le comunità, nei vari luoghi, di accrescere il proprio patrimonio infrastrutturale. E voglio dire che è gravissimo il silenzio della Lega, che fa sempre finta quando bisogna annunciare di difendere i cittadini e i territori, ed è invece silente su uno scippo come questo. Così come ritengo che l'errore più grave sia a carico ovviamente del Partito dei Cinque Stelle, che ha combinato un vero e proprio disastro su questo decreto. Peraltro facilmente rimarginabile, infatti il Partito Democratico ha presentato in sede di conversione un emendamento che mette a posto il tutto, perché basta togliere che l'anticipazione è a carico dell'Abruzzo, ma a carico dell'intero ammontare eventualmente dei patti per lo sviluppo, e si significherebbe togliere pochissimo a tutti, veramente pochissimo. Così bisogna fare.